ma che partita è stata ma che partita incredibile Frozinone Sampdoria 5 a 0 mamma mia incredibile veramente grande grande Sampd veramente che partita che partita incredibile veramente una vittoria pazzesca della Sampd pazzesca ma veramente per tutto proprio incredibile scusate allora Sampdoria Frozinone Sampdoria 0 a 5 incredibile partita stupenda per chi non avesse visto la partita gliela racconto brevemente ma prima ci tengo a salutare una persona allora Simone di 15 anni di Asti tifoso sampdoriano che mi segue lo saluto tantissimo ciao Simone un salutone ti voglio bene allora praticamente per chi non avesse visto la partita il primo tempo è finito 1 a 0 per la Sampdoria gol di Quagliarella i primi 10 minuti una grande Sampdoria veramente un fraseggio incredibile un possesso palla ma fatto bene un possesso palla che poi ci ha portato al gol quindi veramente un bellissimo gioco poi il Frozinone si è svegliato e devo dire che per tutto il primo tempo comunque il Frozinone ha beccato anche una traversa quindi devo dire che comunque il primo tempo si è chiuso così il secondo tempo il secondo tempo non c'è stata partita non c'è stata storia la Samp ha giocato benissimo allora praticamente Quagliarella assist e gol di De Frel ed è 2 a 0 poi la notizia che finalmente Caprari la butta dentro ed è 3 a 0 ah finalmente anche Caprari l'ha buttata dentro sono contentissimo veramente contentissimo poi c'è stato il 4 a 0 sempre di De Frel un gran bel gol e poi il 5 a 0 il rigore del nostro giovane David Konaschi e quindi 5 a 0 è stata una partita incredibile veramente ma uno può dire comunque il Frozinone a Roma con la Lazio aveva perso 1 a 0 e parliamo della Lazio ma giocando un'ottima partita vincere 5 a 0 fuori casa comunque con un Frozinone che non era così facile da affrontare vuol dire che questa Samp ha veramente un grande gioco e un gran bel carattere di squadra veramente allora Quagliarella non si discute veramente stasera un assist e un gol non puoi discutere questo giocatore veramente anche se il gol non è stato della stessa fattura dell'altra volta è stato molto più semplice comunque grandissimo gol veramente grandissima prestazione voglio dire De Freel veramente De Freel in due partite 4 gol De Freel mamma mia ma poi veramente sul secondo gol ma che azione bravissimo grande veramente devo dire veramente sono entusiasto anche di De Freel e poi mi sono piaciuti tutti comunque la difesa si dimostra solida qualcosa abbiamo dovuto patire nel primo tempo ma poi Giampaolo ha fatto le sue correzioni quindi grande Andersen grande Collei che stasera ha preso il posto a Tonelli centrocampo ottimo con Linetti Barreto e Ekdal veramente e poi sono molto contento per Caprari perché finalmente Caprari ha buttato dentro la palla ha assegnato Caprari se lo meritava anche perché Caprari ritengo che sia un gran bel giocatore gli mancava questa cosa del gol gli mancava l'anno scorso la patita purtroppo e finalmente chissà che da qui non possa essere un buon inizio per lui veramente niente cosa dire dopo il Napoli che abbiamo fatto una super vittoria 3-0 dominando quasi tutta la partita questa è stata una prestazione poi finalmente fuori casa finalmente abbiamo dato una risposta anche fuori casa ripeto non guardate il Frosinone perché come squadra debole non era per niente scontato per niente è stata una grandissima Samp il risultato 5-0 la dice lunga perché comunque 5-0 vuol dire che hai dominato ripeto il Frosinone nel primo tempo qualcosa ha fatto ha beccato anche una traversa ma per larghi tratti della partita la Samp ha dominato soprattutto nel secondo tempo quindi è stata una partita eccezionale io sono entusiasta sto godendo veramente incredibile adesso mercoledì abbiamo questa benedetta sfida con la Fiorentina e sarà difficile la Fiorentina oggi ha perso con il Napoli pur giocando comunque una buona partita quindi la Fiorentina anche se dimostra un'ottima squadra quindi sarà sarà una partita difficile comunque quella con la Fiorentina però abbiamo sempre comunque il vantaggio di giocare in casa adesso non so quanti tifosi potranno esserci allo stadio perché comunque la partita è in settimana all'orario è le 19 quindi sicuramente ma questo ne ho già parlato in precedenza che creerà qualche difficoltà comunque si gioca in casa e questo per noi è sempre un vantaggio quindi aver vinto 5 a 0 fuori casa è una grandissima grandissima vittoria commentate condividete e sferitevi al canale ciao a tutti e lo vostro Jumpy ciao a tutti